I tempi passati, la ristrutturazione di Villa Groc, la creazione del museo della clowneria, del circo, dell'attività circense, ora uno sguardo attento al parco Arturo Cipriani. C'è un progetto, un progetto concreto e anche un finanziamento perché questo parco meraviglioso torni a essere lo splendore di un tempo? Sì certo, il nostro studio è stato incaricato dalla provincia per la realizzazione di questo progetto di riqualificazione del parco di Villa Groc e di quella che è la sua illuminazione. Il nostro progetto appunto prevede la riqualificazione della peschiera, delle aiuole, dei giardini, la piantumazione del verde, tutta una serie di lavori che sono finanziati con questo progetto interreghe che prevede il ripristino di quelle che erano le condizioni storiche del parco. Ecco, un progetto approfondito, qui c'è un ampio staff che vi ha lavorato anche a lungo, quindi voglio dire non si tratta di dare una ripulita al parco e rimettere a posto le piante? Esatto, questo progetto che prevede una serie di specificità è stato realizzato grazie al contributo di molti professionisti, tra cui l'architetto Fabrizio Daneri che si è occupato della parte architettonica, Alessandro Bonaldo che è quello che si è occupato di tutti gli aspetti correlati con le immagini, le riprese, i voli aerei, con i droni eccetera, l'ingegnere Agostino Amoretti che si è occupato degli aspetti illuminotecnici e il geometra Lorenzo Fanzone che si è occupato degli aspetti correlati appunto con la lezione dei disegni, dei CAD e render eccetera. Tempi di realizzazione, quando è che verremo a passeggiare in questo giardino ritrovato? Ecco, molto presto sicuramente perché ci sono dei tempi stretti da rispettare e i lavori dovranno essere ultimati entro l'inizio dell'estate, quindi maggio-giugno potremo rivedere lo splendore del parco di Villa Groc. Presidente Fabio Natta, in questi momenti difficili di restrizioni, restrizioni economiche, si riesce comunque per fortuna a tutelare un bene come Villa Groc, non solo un franco bollo dedicato a questo splendore, a questo gioiello, ma anche il recupero del parco. Sì, fa piacere vedere che si riescono a ottenere dei risultati nonostante le criticità ben note, non solo del momento, ma che ormai si protagono da un po' di tempo relativamente a queste famose funzioni che soppresse della provincia, tipo quelle relative al turismo e alla cultura. Noi abbiamo ancora dei beni importanti, tra questi Villa Groc stiamo facendo di tutto perché venga non solo conservata, ma valorizzata. Sono due iniziative importanti, quelle di oggi, una l'emissione di un franco bollo di poste italiane, che ringrazio insieme al Ministero per aver voluto darci questo privilegio, oserei dire. È un bellissimo franco bollo che riproduce parco e villa e quindi darà una visibilità a questa struttura in tutto il paese. Quest'opera è frutto di un lavoro iniziato anni fa, grazie anche al circolo filatelico, ai tecnici della provincia, ai dirigenti della provincia, insomma sono tanti i soggetti che si sono attivati per arrivare a raggiungere questo importante obiettivo che è concreto ma ha anche un valore simbolico a mio avviso importante. Parallelamente illustreremo il progetto Giardival con lo studio Cipriani che lo sta curando. Il progetto Giardival relativamente a Villa Groc prevede il recupero del parco, dell'impianto, diciamo così, elettrico, molto originale, elaborato da Groc quasi ormai un secolo fa e nonché appunto della parte vivaistica, diciamo della parte relativa alla flora del parco, anche questa molto particolare, molto importante. È un progetto comunitario che ci vede partenere insieme a altri due parchi della provincia d'Imperia, tre parchi del PACA e abbiamo ottenuto un finanziamento importante che sfiora ai 200.000 euro. I lavori inizieranno a breve, dovranno concludersi entro l'estate. Anche questo può essere un buon biglietto da visita per Villa Groc, per il suo parco e una speranza per il futuro che credo che Villa Groc abbia e meriti di avere.